andiamo secondo me è ben pericoloso poca vacca se è lunga attenzione dove mettiamo i piedi sento già dei passi molto bene uuuuhh se è bagnato nooo Simo enorme pole nooo Simo c'è qualcuno? è un labirinto piano eh l'hai sentito? si si ma ma non era un pazzo la voce lo sai che dobbiamo anche stare ben calmi con la voce perchè qua basta una vibrazione e li legge tutto non dividiamoci oh porca miseria qua c'è tutto crollato passi 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 eh ehi la non è che ci fanno puoi crollare tutta sta roba mi fai accendere la rem? così vediamo con chi stiamo parlando capitare 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 qualcosa di brutto? speriamo di no dicierare ehm siamo Paul e Bimott sì vorremmo sapere chi è che si lamentava qua c'è un uomo pazzo Pazzo ragazzi Ok Riesci a dirmi il tuo nome? Ma cosa vuoi? Ora si capisce perché magari... Dove? Dove? Cosa vuol dire dove? Non lo so, non riesco a capire Tu dove sei? Ci puoi indicare dove sei? Potere può Ok fallo Come è che c'è mangiato il pietro? Difficoltà Difficoltà? Hai difficoltà a farci capire? Indicami Simo Perché è pieno di pronto? Commercio Porca vacca, è vero Commercio in cosa? Qua è tutto scavato da l'uva Acqua Ok si infatti è tutto melmoso Guardate più melmoso, più di pronto Va dire Dove sei? Mi puoi dire dove sei? Ah Ok Probabilmente lì davanti Ho sentito scivolare qualcuno Eh io mi è caduta una colcina nel collo Qua è crollata Parola Perché parla così tanto se no? Non lo so Dovresti dirmelo tu Ti fai vedere? Riferire Parlami Dimmi il tuo nome Dicci qualcosa di più Cioè Facci capire qualcosa L'hai sentita anche tu? Sì 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 Io ho capito Ho capito Via Hai detto qualcosa Poi via Andate via Andate via Minchia che botta C'è i briviti Sono visto l'ombra Dove? Dietro Lingua Dietro dove? Situazione Eh non è una bella situazione Cosa non passo Quella parola Perché passi e li senti Situazione Ma non Esatto Sento anche dei passi Eh perché li senti Cosa cavolo sta per succedere? Proviamo ancora Andare un pezzettino Ok proviamo Contro Contro Ci sta venendo in contro Eh infatti Io ho proprio immaginato quello Torca Mi si è scaricata la torcia Anche me Guarda Pena mi ha detto Dolore No 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 Dolore Non mi piace Non mi piace Non mi piace Aspetta Aspetta Quella dell'iPhone Quella dell'iPhone Ok Essere Dolore Essere Essere Che brividi che ho Porca miseria Non si vede niente Raga Non potete capire Che Quello che cavolo Cos'è sta roba Non toccare Trascinare Ma il bastone Sei un piccolo No non toccare Non toccare Perché Perché no Perché no Perché no C'è il simbolo C'è la fettaccia Bianca Non lo so Forse Simo È meglio Non fare fighi No Perché Lo sai Quello che secco E infatti Che seccate qualcosa qua Ok ma piano piano Non parla Siamo nella merda Se senza torcerci Ci scarica questa E ci sottoghiamo Una caviglia Uscendo Aspetta Torniamo indietro Ma molto lentamente Sì Oh Hai capito Guarda Anche a me Guarda Ma allora più andiamo giù E più ci scarica tutto E più è casa sua Cosa Era da una testata Eh l'ha detto Dolore Sì sì Ah che dolore proprio Però qua ci sono un po' Delle impronte Che non sono le nostre Uccidere 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 No 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 Aspetta 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 Perché non mi piace per niente Usciamo un attimo Ma Non bello Cosa dice Latino Mi ha detto Non bello C'è qualcosa di molto brutto Lì dentro Sì C'è qualcosa C'è un'entità Forse molto aggressiva Non capisco perché però Forse è morta lì dentro Probabilmente sì Una miniera Gli è successo qualcosa Sai quanti ne morivano Nelle miniera Vediamo se ci segue ancora Ci puoi raccontare Come sei morto? Sì Rispetto Anche noi abbiamo rispetto di te Tratto Tratto Ma un tratto della grotta? Che è sprofondato? E franato? Stesso Stesso Spiegati meglio Sei morto qui dentro Articolo 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 me l'ha detto anche Forse mentre eravamo al buio È uscito un articolo Eh non lo so Su magari una frana Non lo so Dinanzi 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 Devo guardare su google Se parlano magari di qualche articolo Di qualche magari incidente Che è successo qui Può essere? Anche se è dubito Sono molto vecchi È quello Molto nascosto Realtà Realtà E allora è successo qualcosa Eh sì Non voglio stuzzicarlo più di tanto Ora che so che c'è E che è bello potente Magari prima di tornarci Voglio pensare un attimino Che cosa Cos'era Noi siamo un po' circondati Sì Vero Non mi piace tanta questa situazione No Bisogna Capire bene Se vogliamo ritornarci Come ritornarci Perché È un po' pericoloso Cioè Oltre che per l'entità Il posto Se lì crolla qualcosa Ciao Ciao Hai visto In alcuni punti È già crollato E non so quanto Vado a profondare Va bene Va bene Ok Però ci può andare Andiamo a ripigliare Debbie Sì Il frattempo magari avrà finito Sì Esatto Cioè Lei se fate i capelli Noi a momenti Ci facciamo le teste Sì A momenti Io mi faccio la testa Perché L'ottana Cragnata Madonna che male Va bene Comunque Pizzarmi Io spero Che queste nostre Scorribande Di me Pimote Vi siano piaciute Io sono sempre caldo a farne Se conoscerò altri posti Sicuramente aspetto Cioè Non aspetto nemmeno Che Debbie vada La parrucchiera un'altra volta Ma Ale E ci andiamo E non so Fatemi sapere cosa ne pensate Di questa grotta Di questa miniera E ditemi Qual era la vostra sensazione Perché io ho cercato Di trasmettervela E Boh Sento che c'è qualcosa di Molto forte lì dentro Però Per adesso Meglio così Scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate Che sono curioso Grazie a tutti Grazie a tutti.